Ciao a tutti, in questo video vedremo le funzioni goniometriche inverse. La prima che analizziamo è la funzione inversa della funzione seno. Sappiamo che una funzione è invertibile solo se è bionivoca. La funzione y uguale sen x però non è bionivoca, perché non è iniettiva. Analizziamo il grafico della funzione seno. Come già sappiamo, i valori che assume la funzione seno sono compresi tra 1 e meno 1. Tracciamo una qualunque retta orizzontale, parallela all'asse delle x. Notiamo che questa retta incontra e interseca il grafico della funzione in infiniti punti. Questo è un segno che la funzione non è iniettiva. Per essere iniettiva devi incontrare il grafico della funzione in al massimo un punto. Pertanto, se non è iniettiva, la funzione non è biettiva e quindi non è invertibile. Allora, come è possibile che esista una funzione inversa? In questi casi si opera una restrizione del dominio. Restringiamo il dominio all'intervallo meno pi greco mezzi più pi greco mezzi. In questa zona vediamo che la funzione è iniettiva perché se noi tracciamo, come al solito, una retta orizzontale questa incontrerà il grafico solo in un punto in questa zona. Non ci interessa quello che succede prima o dopo l'intervallo definito. Tracciamo un'altra retta, ci sarà un solo punto di incontro. Da meno pi greco mezzi a più pi greco mezzi la funzione è iniettiva. In questo intervallo noi possiamo definire la funzione inversa della funzione seno. Dati i numeri reali x e y, con x compreso tra meno 1 e 1 e y compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, si dice che y è l'arco seno di x se x è il seno di y e scriviamo y uguale arco seno di x oppure y uguale seno alla meno 1 di x. Attenzione, seno alla meno 1 non vuol dire 1 fratto seno. È la scrittura che ci indica la funzione inversa della funzione seno ed è quello che si trova sulle calcolatrici. Quando abbiamo un certo valore del seno di x con la calcolatrice facendo seno alla meno 1 noi troviamo l'angolo corrispondente. Ad esempio, se noi abbiamo 0,5, valore del seno, se clicchiamo seno alla meno 1 sulla calcolatrice questa restituisce 30, il valore dell'angolo in gradi. In effetti il seno di 30 gradi fa 0,5, cioè un mezzo. Vediamo altri esempi. L'arco seno di 1, ci dobbiamo chiedere qual è l'angolo il cui seno vale 1, pi greco mezzi. Se noi consideriamo l'arco seno di radice di 2 fratto 2 questo è pi greco quarti in quanto il seno di pi greco quarti è radice di 2 fratto 2. Attenzione, dobbiamo dare, diciamo così, in pasto alla funzione arco seno sempre dei valori compresi tra meno 1 e 1 e questa ci restituirà dei valori che devono essere per forza compresi tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Ed ecco il grafico della funzione arco seno. Vediamo la limitazione sul dominio e sul codominio. In modo del tutto analogo possiamo ragionare sulla funzione coseno di x e definire la funzione inversa arco coseno. Anche il coseno chiaramente non è una funzione iniettiva. Lo vediamo dal grafico. D'altra parte il grafico della funzione coseno non è nient'altro che il grafico della funzione seno traslato di 90 gradi. Se noi restringiamo il dominio tra 0 e 180 gradi ovvero tra 0 e pi greco abbiamo una funzione iniettiva e allora possiamo definire la funzione inversa arco coseno e lo scriviamo questa volta arco cos oppure coseno alla meno 1 valgono le stesse considerazioni che vi ho fatto in precedenza per l'arco seno. Perciò se voglio determinare l'arco coseno di radice di 3 fratto 2 devo ragionare su quale angolo mi dà come coseno radice di 3 fratto 2 e questo è pi greco sesti. Questo è il grafico dominio sempre meno 1, 1 il codominio i valori assunti vanno da 0 fino a questo punto che è pi greco seno e coseno esistono sempre per ogni valore di x ma noi sappiamo che la tangente non è definita per multipli di pi greco di pi greco mezzi in pi greco mezzi più k pi greco non possiamo mai determinare il valore della tangente perciò come possiamo definire la sua funzione inversa? Anche la tangente è comunque una funzione periodica non iniettiva dobbiamo operare una restrizione del dominio e lo facciamo tra meno pi greco mezzi e più pi greco mezzi come abbiamo fatto per il seno. Questa è la restrizione del dominio della funzione tangente tra meno pi greco mezzi che all'incirca è qui e più pi greco mezzi che all'incirca è qui. In questo intervallo la funzione risulta invertibile pertanto possiamo definire la sua funzione inversa. Se consideriamo i numeri reali x e y dove x appartiene ai reali e y invece è compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi diciamo che y è l'arco tangente di x se x è la tangente di y questa è una funzione che si incontra abbastanza spesso poi andando avanti parlando poi di derivate integrali questa è la scrittura y uguale arco tangente di x oppure y uguale tangente alla meno 1 di x questa è una scrittura che già si incontra ad esempio in fisica nei primi anni quando si fanno le componenti dei vettori quando abbiamo la componente y nella componente x sappiamo che l'arco tangente del rapporto tra il cateto verticale e il cateto orizzontale di un triangolo rettangolo quindi della componente y sulla componente x ci dà l'angolo formato dal vettore con l'asse orizzontale quindi è una scrittura che già si incontra per far riferimento al fatto che nella calcolatrice noi dobbiamo utilizzare questa funzione perciò quanto vale l'arco tangente di 1? è l'angolo la cui tangente vale 1 e questo è l'angolo di pi greco quarti vediamo che il grafico della funzione arco tangente è limitato qui tra pi greco mezzi e meno pi greco mezzi bene questo video termina qui io spero che vi sia stato utile non mancate al prossimo video nel quale vedremo come realizzare delle trasformazioni geometriche sulle funzioni goniometriche vi ringrazio vi saluto e alla prossima ciao ciao